Fine settimana di passione per i comuni del Tirreno-Cosentino alle prese con l'emergenza rifiuti. Il conferimento della spazzatura a Pianopoli è andato a vilento con casi limite come quello di Tortora. Infatti il camion giunto all'impianto di Catanzaro alle 9 del mattino di sabato ha avuto accesso alla discarica solo all'una di notte. A Praia Mare la spazzatura è rimasta nei cassoni per tutto il fine settimana. Ogni tentativo di conferimento è stato vano. Il vice sindaco Antonio Giannotti ha avuto rassicurazioni per oggi. A Pianopoli saranno scaricati due dei 19 cassoni ancora fermi in località Zaparia. Ma i tempi di attesa potrebbero essere biblici. A Scalea invece si tampona come si può stamane la città si è svegliata con le strade del centro sgombere dai soliti cumuli. A Santa Maria del Cedro anche la situazione è sotto controllo ma il sindaco Giuseppe Aulici non ha nascosto che l'emergenza non lascia dormire sonni tranquilli ad amministratori e cittadini perché da un momento all'altro tutto potrebbe precipitare. Ma non è solo il problema del conferimento a mandare in tilt gli enti ma anche le direttive improvvise che la Regione Calabria invia ai comuni con notevole ritardo. L'assessore all'ambiente del comune di Tortora, Franco Chiappetta, ci ha detto che ha già provveduto ad inviare una nota di protesta agli uffici regionali. Sabato infatti non la Regione ma un vorticoso giro di telefonate ha portato a conoscenza l'ente guidato da Pasquale Lamboglia della possibilità di scaricare i propri rifiuti in discarica. Dall'altra la Regione rassicura che la situazione sta rientrando. Il nuovo accordo con Ecologia Oggi che gestisce gli impianti della circoscrizione Calabria Sud potrebbe essere la chiave di volta ma per i primi cittadini tutto è ancora troppo aleatorio.